Paolucci, ex gloria della San Salvo e della Provasso, com'è tornare in campo dopo tanto tempo? Per me è un'emozione grandissima tornare qui a San Salvo, dopo aver fatto un anno bellissimo e soprattutto giocare per una causa giusta, per i terremotati, per me è la cosa più bella poi rincontrare vecchi amici fa sempre piacere Mattiacci, allora che sensazioni ci sono per questa partita? È una bella sensazione, come ha detto l'amico mio Fabrizio, incontriamo vecchi compagni ma il motivo principale perché siamo qui è per dare una mano a quelle persone che hanno avuto la disgrazia di far parte di una terra di terremotati, qual è la nostra regione, l'Abruzzo Bevi l'acqua, sempre con la fascia di capitano, anche se passano gli anni Almeno quello, solo quello mi è rimasto adesso purtroppo Una volta eravamo più giovani, si correva e si giocava e ci divertivamo di più Adesso ci divertiamo un po' di meno Secondo me è sempre un leader Per queste occasioni bisogna fare anche qualche sacrificio Il suo San Salvo era un gran bel San Salvo L'auspicio che anche questa società riesca a calcare insomma palcoscenici importanti Ma speriamo perché da allora diciamo non è che c'è stata una grande squadra però ripeto bisogna avere un po' di fiducia dare un po' di fiducia ai giovani soprattutto perché se non si coltiva il settore giovanile purtroppo non si andrà mai avanti Grazie